Salve a tutti amici, bentrovati a questo nuovo appuntamento con la biografia di Richard Benson e anche oggi vi propongo un'intervista. Quindi siamo qui per ascoltare la seconda intervista dopo quella che è andata in onda tra virgolette qualche tempo fa, che potete ancora trovare chiaramente sul mio canale, quella Gianni Leone. Quest'oggi vi propongo la testimonianza su Richard Benson di un personaggio che è quasi omonimo di Gianni Leone, come potete leggere qui, perché parliamo di Franco Leone, quindi stesso cognome, diverso nome. State attenti però a non confonderli, perché fanno due professioni diverse e soprattutto hanno un modo diverso anche di approcciarsi, come state per vedere, come vedrete, alla tematica Richard Benson. Chi è Franco Leone? Franco Leone è, innanzitutto, parliamo subito dei suoi, di quello che è rappresentato per Richard, è il regista del famoso spettacolo teatrale Schizzona. Franco Leone è oggi un architetto, è un personaggio comunque, un professionista riconosciuto che, nativo insomma della Calabria, si spostò negli anni settanta a Roma e lì a Roma chiaramente andò a studiare presso la Sapienza, la facoltà di architettura, e nei circoli culturali e musicali della capitale lui conobbe Richard Benson. Le circostanze, scusate, di questo incontro ve le spiegherà lui fra poco nell'audio di questa intervista che lui mi ha concesso qualche tempo fa, devo dire, qualche mese fa, con grandissima cordialità e grande gentilezza, io lo ringrazio sentitamente. Allora, un'avvertenza, in alcuni punti noterete delle discrepanze non decisive ma di interpretazione su quello che poi ha rappresentato Richard Benson rispetto a quanto detto da Gianni Leone, questo si spiega in parte con appunto una diversa sensibilità perché ognuno di noi giudica sulla base delle sue categorie una persona e quindi tanti giudizi su una stessa persona possono risultare diversi e poi anche. Il tutto si spiega per un dato molto semplice, cioè perché Franco Leone ha conosciuto Richard in un periodo che è non pienamente coincidente con quello in cui l'ha conosciuto Gianni Leone, cioè Franco Leone l'ha conosciuto a partire dagli ultimi anni 70 o meglio dalla metà degli anni 70 fino ai primi anni 80, mentre la conoscenza di Richard con Gianni Leone parte proprio dai primi anni 80, quella decisiva. Quindi sono due persone che l'hanno conosciuto in momenti solo parzialmente coincidenti e quindi è normale che ci siano anche delle discrepanze. Vi lascio alla sua intervista, ne sentirete delle belle, molte conferme, alcune diciamo appunto situazioni in cui lui ci porterà dati nuovi, però in generale vi posso assicurare che vi divertirete. Ok, non parlo più, interverrò soltanto nel corso del dibattito con altri commenti, vi lascio la sua intervista, 1, 2, 3, Franco Leone live, sigla. No parlo più, interverrò soltanto nel corso del dibattito con altri commenti, salve signor Leone, pronto? Ciao, ciao. Salve. Allora. Come sta? Tutto a posto? Niente, intanto volevo dire che Richard che avete conosciuto voi non è quello che ho conosciuto io. Eh, questo lo immaginavo. Per cui è completamente un'altra persona. E come definirebbe questa differenza? Che differenza trova? Ma sostanziale, totale, sostanziale. Io ho conosciuto una persona normale, sensibilissima, un grande musicista, ho frequentato casa sua, dei genitori, ho conosciuto suo papà, sua mamma, ho franzato con loro, ho vissuto lì, sono stato, ho conosciuto Etta, la sua donna, Capacci, ho vissuto con loro nella villa di El Sacrofano, abbiamo creato cose insieme, spettacoli, musiche, lui è un grande stimatore di tutti i generi musicali, sa tutto. Quando l'ho conosciuto io praticamente quando passavamo i pomeriggi a comprare dischi, vinili, ad ascoltare tutte le novità, ho partecipato pure io a delle trasmissioni facendo scenografie, cose che era un po' anche un gioco così, non è che lui aveva bisogno di fare queste trasmissioni per lavorare, era una passione, insomma. Ma, mi può dire, quando... Poi abbiamo cominciato a fare spettacoli, così, ma erano un po' dei giochi, non è che era lui il lavoro suo, era quello. Lui non aveva bisogno di... Sì, sappiamo che veniva... Era una passione per la musica, un grande chitarrista, un mostruoso, come dice lui, perché effettivamente suonava la tia, insomma. Era, diciamo, molto, molto avanti rispetto a quegli anni, per cui quando si facevano gli spettacoli, sai, non è che tutti quanti potevano capire o fare, già lui era un tipo abbastanza particolare, quindi figuriamoci poi a proporre questi spettacoli dovunque, perché li facciamo dovunque, in localini, dove capitava, non è che stavamo lì a fare la tournée, abbiamo fatto qualche teatro, qualcosa, io facevo le luci. Dicevo, ma in che occasione vi siete conosciuti? Quando? Quando e in che occasione? Ma ci siamo conosciuti, perché io sono andato all'università a Roma, nel 74, e praticamente io ero molto... ho passato un periodo di musica, poi venivo dalla Calabria, da un paesino, andavo a vedere i concerti già da prima, eccetera. Poi ho conosciuto lui perché ho cominciato a frequentare un locale che si chiamava Centro Musica, che era vicino al Colosseo, dove si facevano concerti di tutti i tipi che era gestito anche da Giovanni Cipriani. Non so se l'hai contattato qualche volta, c'era Cipriani pure, un grande amico di Richard, che era bello che nel 72, mi pare, ha organizzato il festival di Caracalla. Ah, questo sì, invece il festival ce l'ha presente. sì, sì, sì. Eh, cazzo, Caracalla è stato un festival incredibile a Roma, storico, c'erano di tutto e di più. Quindi l'ho conosciuto in questo locale, poi dato che era un po' così per me... beh, io già avevo amici, frequentavo un gruppo rock che si chiamava un albero motore, poi frequentavo anche, mi piaceva il banco del motosoccorso, quindi avevo delle amicizie, delle conoscenze, eccetera. Poi frequentando questo locale, appunto il Centro Musica, che era vicino al Colosseo, per fare via Capodafrica, l'indirizzo, e mi è piaciuto frequentarlo, c'erano sempre concerti così interessanti. E così ho conosciuto lui. Siamo entrati amici, la passione per la musica, per un certo tipo di musica, soprattutto rock. Ma in quegli anni come si presentava, Ricciardo? Abbiamo fatto molto amici, abbiamo cominciato anche poi a lavorare, a fare cose insieme così, al fondo di questi spettacoli. Ancora ho una cassetta di questo spettacolo, di questi costrati, molto bene, di queste... una cassetta musicale. Sì, sì, la musica a sette. Le vecchie cassette, dove ci sono pezzi tipo Alimazoo, Cristeria, Schizzona, anche alcuni molto dolci, sulla Madonna, perché lui era fissato anche sulla Madonna, su queste cose così, molto 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 belle. Poi ci siamo persi di vista, perché io fino all'84 abbiamo fatto queste cose qua, un po' di anni. Poi all'84 io ricordo di andare in Spagna e non mi andavo di fare sti concerti in giro per l'Italia, questi spettacoli così, e siamo persi un po' di vista. Ok. Poi ci siamo risentiti così a sprazzi, poi io mi sono trasferito da Roma, me ne sono andato nel Veneto, a Venezia, per cui ci siamo persi di vista, diciamo. Non siamo più tanto frequentati. Io mi frequentavo anche col figlio di... molto tu sai, no? Sì, 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 sì. Poi ho perso di vista a un certo punto, non so se è stato Gianni, Truncellito, chi, perché io chiedevo sempre, ma come sta, che fa, qua e là, e mi hanno detto ma è strano, non riconosci più questo, quello fa questi concerti, questi spettacoli e sono andato così a vedere, un po', sai, proprio come su YouTube, ho visto un concerto, mi è capitato sotto gli occhi un concerto che aveva fatto uno spettacolo a Villada. Ah, sì, sì, all'irrifesto di Villada. Suo. Eh, cioè, non credevo ai miei occhi, cioè, mi veniva da piangere, cioè, vedevo questi deficienti che gli urlavano, che facevano, e dicevo, ma questi non sanno chi è questo qua. E poi non capivo perché lui si era ridotto in quel modo, cioè, non riuscivo a capire queste cose, non lo so, non riuscivo, non riuscivo a capire perché io ho conosciuto tutt'altra persona, cioè, era uno, cioè, molto amante dell'estetica, della precisione, del... ho frequentato con lui, ho frequentato gli studi di registrazione con Dossena, Tamborelli, Rai 3, cioè, era molto stimato, molto... Su Rai 3 che trasmissioni fece? A che trasmissioni partecipavano? No, Rai 3 era così, avevo fatto delle prove di certi pezzi musicali, ma poi non è andato, non è andato a... non ho avuto seguito, insomma, a sta cosa. Ma perché io sapevo che... che aveva partecipato, per esempio, all'Orecchiocchio con Fabio Fazio, proprio su Rai 3, non so se... Eh, non mi ricordo, poi, dipende che anno, perché poi, ti ripeto, all'84, ho perso i contatti. Ok. Comunque, io, diciamo, con lui dal 75, 75 fino all'84, così siamo stati molto, molto insieme. Poi io studiavo, perché studiavo architettura, quindi non è che... Sì, sì, sì. Man mano che andavo avanti, poi avevo sempre meno tempo lì, però siamo stati, ho vissuto, ovvio, abbiamo vissuto insieme a Sacrofano pure, perché io abitavo un po' tra steve, poi nei primi weekend ci andavamo lì, avevo questa sala di registrazione, si suonava, si divertiva, c'era Etta che cucinava sempre delle cose buonissime, veniva anche troncellita, c'era... Sì, sì. Non lo so, io poi l'ho sentito anche dopo, eh, anche ultimamente, l'ho sentito due anni fa, lo sentito, però vedo che non è più, cioè, non lo so. Non lo riconosce più, diciamo. No, ma infatti guarda, non sono neanche mai andato a trovarlo, perché non mi va di vederlo così, guarda sinceramente. Ok. Quante volte l'edettuale mi piacerebbe andare a trovare, parlare un po', però non mi va, anche perché figurati, è tutto il contrario di quello che ho conoscito io, insomma. era il massimo dell'estetica, della precisione. Poi non so che gli è successo, poi appunto ho saputo quel discorso... Ah, mi sai che è stato da quando ho saputo quel discorso del ponte di istoria, che non ho mai capito che è successo. Un incidente. Poi non ho approfondito, perché non sono solo cose che ti fanno male. Io... E quindi non è che... Puro perché con lui ci siamo divertiti abbastanza. Eh, ci credo, ci credo. Veramente. Ci siamo divertiti. Ero negli anni di Roma, che è la stupenda Roma quegli anni lì. Dal 75 fino all'80... Fino all'90 forse. Poi io all'85 sono andato via. Io... Però... Insomma... Volevo chiederle... E niente, così. Quindi ogni tanto quando sento parlare di Luecce do un po' un certo chiedi. Ho conosciuto anche Marzia, perché abbiamo fatto gli spettacoli. Marzia Sedoc. Ma è vero che c'era una storia tra loro, è vero questo? Sì, 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 stavano insieme. Stavano insieme, perché po' Richard... E le donne gli piacevano moltissimo. Anche se la gente lo vedeva alle strade, gli diceva quello che è gay. Invece non aveva un cazzo. Lui ha sempre avuto donne... Molto belle, molto belle. Cioè le donne gli piacevano un cazzo. Mi piaceva proprio il sesso proprio delle donne, capisci? Sì, sì, sì. Però voglio spiegare alla gente. Poi me lo sono portato pure in Calabria. Al mio paese, a mille abitanti. Mi ricordo un Capodanno a casa mia. Ero a questo tipo con i tacchi, alzi 12 cm. Non era proprio roba, però... Era sempre uno che... Cioè gli piacevano... Eh, io ho conosciuto Samarzia, sì. Poi ho conosciuto anche quella... Gabriella Ricci. Ah, l'ha conosciuta. L'ho conosciuta. Allora è tutto vero. Ho tentato di contattarla e non ci sono riusciti. Come? Ho conosciuto tutti perché è stato amico per tanto tempo. Poi sono andato via. Iradelshaft non ha avuto modo di... Iradelshaft. Dovrei avere anche delle foto di qualche spettacolo. Non mi ricordo se qualche spettacolo o cosa. C'è anche Marzia. Se le trovo magari te le mando. Ah, magari. Sarebbe straordinario. Di foto... No, dicevo... Iradelshaft ha avuto modo di conoscerla. Eh, non ti sento però. Adesso? Eh, adesso sei meglio. Eh, dicevo Iradelshaft ha avuto modo di conoscerla. Eh? Iradelshaft ha avuto modo di conoscerla. No, quella non l'ho conosciuta, non l'ho conosciuta. Ok. Fino all'84. Fino all'84. Fino all'84. Poi dall'84 in poi... No. No. Sempre bene. La madre internet è capace. Benissimo. Tutta la famiglia. Sia la figlia quella che poi è morta. Sia il figlio. Sia il figlio. Antonella, Antonella. Io non partiamo eh. C'è il cane. Eh, un po' zingh ero io, capito? Ero studente. Stavo un po' a casa mia. Sì, abitavo un po' tra steve. Un po' a casa. Un po' a casa loro. Un po'... Dipende. Allora era tutto un altro mondo all'epoca. Perché era come adesso. E invece... E invece Schizzona, che cosa può dirmi di Schizzona? Ma Schizzona, guarda... Lui... Ogni cosa che faceva, ogni spettacolo... Ogni... Intanto era uno, come a me... Cioè che... Molto... Il fatto di usare... Utilizzare... Nomi di effetto era una cosa molto... Eh... Utilizzata. Senso... Schizzona, Cristeria... Tutti questi nomi così. Cioè era proprio una specie di ricerca, no? Per colpire già dal nome ogni cosa che uno poteva fare. Sì. Ma Schizzona, poi sicuramente, capito? Sotto questi... Sotto questi personaggi, insomma... Si nascondeva la tua personalità. Era lui, insomma... La fine. Ma... Questo... Era lui, non è che era... Era... Non so neanche che dire... Non mi sono... Non ci potevamo questi problemi. Non so neanche io posso... Infatti quando mi hai chiesto la prima volta... Ma che gli dico? Ecco... Cioè nel senso che non è che... Sì, c'era uno spettacolo, una trama... Un po' qua... Non è che era proprio... Una storia con un personaggio... Molto identificato, molto delineato... Era... Così faceva parte di tutto questo discorso schistofrenico... Delle cose... Che... Che... Lui sempre amava... Ehm... Non so neanche io... Era... Poi si dava molto peso alla musica, più che altro... La... La scena... Gli effetti speciali... Perché già da allora... Le usavamo... Di queste cose qua... Ehm... Poi era tutto questo in inglese... Era in inglese? Addirittura? Eh... Lui cantava spesso in inglese... Però aveva anche delle canzoni... Molto belle... In italiano... Mi ricordo... Molto belle... Molto belle... Tra l'altro adesso io ho fatto da poco un trasloco... Per cui tutte queste cassette... Ste robe qua... Non ce l'ho più... Forse è da di mano... Ehm... Se no... Magari adesso... Potevo risentirmi... Riascoltarmi questa cassetta... Magari... Magari... Anche i ricordi... E le cose... No... Sai... Sono passati... Tanti anni... Tanti anni... Quarantina d'anni... Eh sì... Parliamo degli anni 70... Quindi... Eh... Perché mi ricordo... Io mi ricordo anche una foto... Che ogni tanto mi viene sotto mano... Eh... Mia... Che facevo le luci... Al centro musica... Quindi... Parlo del 76... 75... Quell'epoca lì... Eh... Poi vabbè... Gli spettacoli successivi... Sono stati anche più avanti... Infatti mi ricordo che nell'84... Dovevo andare via... Beh... Poi io non sono andato... E... Io mi sa che fino all'82 forse ho fatto... Qualche cosa con lui... Poi... Poi... Poi abbiamo fatto... Mi sono dedicato alla moda... Abbiamo fatto il spettacolo a Vienna... Di moda... Quindi non... Non andavo più... Non facevo più questa cosa qua... Eh... Boh... Comunque... Di ottava nota che... Che riguardi ha... Della trasmissione? No... Ottava nota... Quando è iniziato c'ero io... E... Praticamente... Ho anche qualche foto... Ho anche su internet ci sono... Di questa stanza... Che poi io... Mi... Mi ricordo di... Cioè... Davo una mano pure io... A livello... Scenografico... Mettevo scenografico... Una parola grossa... Così... Ricostrulevamo la stanza di una... Di una... Di un appassionato di musica... Mettevamo un po' di poster... No... Ci andavo sempre... Andavo sempre... A volte mettevo pure i dischi... Eh... Era un po' una famiglia... Sai... Non è che era... Non è che c'era tutto questo... Sto... Sto... Sto eccipio intorno... Voglio dire... Ma... Ce avremmo delle persone... Sì... Dei bravissimi fotografi... Mi ricordo... Chè... Non mi ricordo... Sto fotografare così... Lui deve avere tanto del materiale... Se ancora ce l'ha... Ma... Non mi ricordo più il nome... Po lecturer... wäre KO ... È stato... Come una meteo... È passato un periodo... Un po' basta... Eh... Non c'era prima... E é... Compasso... Proprio... Nel periodo di questi... Spettacoli... queste cose qua. Ma non mi ricordo il nome. Prima ha citato Tamborrelli, no? Il produttore, prima? Sì, lì ce l'ho andato pure io, perché mamma che palle però! No, che palle nel senso per me, cioè nel senso che non ho mai frequentato una sala di registrazione che magari può sembrare un sogno per parecchi e invece mamma quante robe, quante robe! Un minuto di musica, cioè! Ma lì è nato con Animal Zoo! Animal Zoo, ma è vero che lui fece pure le chitarre della sigla del Drive-In addirittura, Richard? Le risulta? No, lo so questo, non ti ricordo di che epoca era. Eh, primissimi anni 80. Non credo. Eh, no, non mi ricordo questo. Perché lui l'ha dopo. Lui è ancora adesso, credo. Non è che si è dimenticato di suonare, però era veramente un grande musicista, bravissimo. proprio, cioè, io lo ascoltavo ore, mi ricordo a casa sua, suonavamo, facevamo, io suonavo un po' le percussioni, cioè ci divertivamo, ma era proprio bravo, 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 eh. C'è quella chitarra acustica anche. Lui usava la chitarra acustica, faceva dei pezzi bellissimi, arpeggiati con la chitarra acustica, tra cui questi che parlavamo della Madonna o altri. Fermiamoci un attimo e rientriamo in studio, qui a Televita. Non so se avete notato, anche in un passaggio precedente, che Franco Leone parla di un Richard che ha composto degli inni, o comunque dei pezzi musicali, dedicati alla Madonna, e quindi in qualche modo alla fede. Ritorniamo con la schermata a Franco Leone. E questo devo dire che sulle prime mi ha sorpreso, perché noi siamo abituati a vedere un altro Richard Benson, un Richard Benson che ha delle idee molto precise sulla religione, soprattutto Richard Benson blasfemo, a tratti dissacratorio e dissacrante, prima ancora. che cosa ha continuato a dire incalzato da me. Ho fatto un'altra domanda, chiaramente, a proposito. Ma, ehm... Ma scusi, ma quindi... Non so che gli è successo, Rob. Quindi all'epoca, no? Lei mi ha parlato più volte addirittura dei brani sulla Madonna, ma lui era credente all'epoca, eh? Richard? Lui era... Lui era... Lui aveva questi... Sì, sì, era vera... Ma... Guarda, ehm... Credo di sì, però, sai, sono cose che poi sono molto personali, non so se... non è che andavano messe insieme, voglio dire. No, no, sì. Eh... Però lui aveva un rispetto, sicuramente, altissimo per queste... Più che altro per queste figure, per queste... No, perché glielo chiedo... Per quello che rappresenta, forse, più che altro, capito? Sì, no, glielo... Perché lui, per esempio, lui amava molto la mamma, lui amava molto sua mamma. Marcel Giammona... Marcel Giammona... Eh? Marcel Giammona... Con sua mamma aveva un rapporto. Sì, ma io l'ho conosciuta, eravamo molto bella, ma... Molto... Eh... A Via dei Funari, lì, ci sono stato tanto... Eh... Nobita! Tu poi andavo ogni giorno con la... Cioè, ci vedevamo... Cosa ogni giorno con la mamma, sai, era molto discreta, non è che... Non è che tutti quanti entravano in questa casa, cioè... Mi piaceva la mamma, poi il papà... Ma pure il padre l'ho conosciuto, simpatico... Era un bell'uomo... Ma pure la madre era una bella donna... La mamma era belga, vero? La mamma era belga? Eh... Mi sa di sì, di origine... Mi sa di sì... Il papà, sì, pure, era inglese... Ma faceva la pubblicità della Gillette, mi ricordo... Come no, sì, sì... L'abbiamo ritrovata anche... Eh... Poi... Aveva la nonna che era... Lui era anche molto collegato alla nonna che... Che invece... Era di Anticoli Corrado... Sì, sì... Diceva che gli parlava il romanaccio... Lui... Adesso... Lui... Comunque era inglese... Ma... Mi ricordo che aveva... Due... Due... Due cittadinari... Lui aveva la doppia cittadinanza... Sì, sì... Allora, la cittadinanza è inglese e quella è italiana... Cui... Sì, ma infatti il... Noi abbiamo... Noi abbiamo... Noi abbiamo... Abbiamo scoperto che il suo bisnonno era un magnate della pubblicità... Quindi... Eh... Ho visto... Ho visto qualche filmato... Ma come avete fatto? Bella è stata quella storia... Eh sì... Siamo riusciti tramite vari documenti trovati su internet... Varie deduzioni uno dopo l'altra ad arrivare al bisnonno che si chiamava... Samuel Herbert... Samuel Herbert Benson... Quindi... Noi, guarda... Io non ho mai capito per sempre perché lui non ha avuto un successo... Eh... Planetario... Nel senso... Lui avrebbe avuto veramente avere un successo... Perché io pure ci capivo di musica... Ci capisco... Tutt'ora di musica... Eh... Vedevo la musica che faceva lui... Vabbè che ce ne sono tanti, eh... In Italia che... Che... Che sono molto 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 più validi di quelli che poi sono diventati... Tra virgolette famosi... Eccetera... Poi non mi spiegava... Ma come mai lui non riesce... Anche perché... Non è che non mi spiegava... Poi in realtà... Lui era un tipo molto... Con un carattere molto forte... Quindi non... Eh... Non tanto... C'era un tipo che non leccava il culo a nessuno... Hai capito? Non è che... Cioè una cosa che si doveva fare la faceva... Cioè come diceva lui o niente... Non andava in giro... Per cui magari... Poteva diventare a volte un personaggio scomodo... Certo gli dava fastidio... Volevano... Cioè lui aveva le idee molto chiare... Quindi... Per cui... Non è che uno qualsiasi poteva andare lì... E dire no... Questa cosa la devi fare così... Perché... Cioè... E poi... Un personaggio anche molto... Per quegli anni era... Molto più avanti... Cioè... Molto... Molto trasgressivo... Molto... E ci credo... Quindi... Ma... Invece... Lei del... Del film... L'inceneritore... Sa qualcosa... Ma... Sì... Certo... Perché io... In quel periodo lì... Frequentavo proprio il Sacrofano pure... Quindi... C'era Francesco... Francesco Boscaro... Ah... L'ha conosciuto quindi... Sì... L'ho conosciuto... Era di Padova... Si pronuncia Boscaro allora... Boscaro... Boscaro... Che... Che era di Padova... Perché mia moglie poi è di Padova... Io poi se mi sono già iscritto a Padova... Ok... E... Quel periodo... E poi non l'ho conosciuto Boscaro... Era... Un nobile... Quali... Eh... Mi ricordo che fu... Una bella operazione quella... Però poi non ha avuto... Solo quello un grande... Seguito quel film... Non fu distribuito purtroppo... Eh... Però c'era Fabio Bucci... C'era Benedetti... C'era Benedetti... Cioè... C'erano... Artisti... E mi ricordo che... Il figlio di Maria Antonietta... Capacci... Se ne venne proprio qui a Padova... A lavorare con... 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 Boscaro... A sto film... Lui aiutava... Nella... Fotografia... Nella... In queste cose qua... Il figlio di... No... Capito... Pierluca si chiamava... Pierluca si... Pierluca Bronchi... Era... 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 Un fotografo bravissimo... Ha vinto... Faceva anche... Ha fatto pure un calendario della Pirelli... Andava... Ha una chiamata a New York... Cioè... Era... Era... Veramente bravo... Bellissimo... E bravissimo... Ma poi... Etta e Richard stavano bene insieme... Certo... Etta era gelosissima... Perché Richard... E' come si dice... E' stato sempre un puttaniere... Il gruppo perde il pelo... Ma non ha il vizio... Quindi... Lei essendo più grande di lui... E... Etta era molto più... Era più grande di lui... No... Più vecchia di lui... Si... Si... Ma... Lei lavorava... Sponsorizzava pure... Perché... Eh... Insomma... Era... Era... Faceva tutto... Lei... Purtite nel suo vicino... Lo amavano... Ma anche lui... Ci sono stati tanti... Tanti anni insieme... Si... Si... Tanti anni... Si volevano bene... E' che lui... E' che lei aveva anche tre figli... Eh... Eh... C'era forte pure... E' una donna con le palle... Mica... Si... Si... Me l'hanno descritta... E' scritta tutti così... Pure Gianni Leone... Del bello tubo... Bella... Bella... Eh Gianni... Eh... Con Gianni abbiamo fatto uno spettacolo a Vienna... Mi ricordo che... Che c'ero io nell'organizzazione... Ma è tanto che non lo sento pure lui... Ma... Ehm... Tornando un attimo all'inceneritore... Lei ha avuto modo di vederlo il film? Ma... Sai che non... Non mi ricordo... Mi pare che l'ho visto una volta... Ho visto dei pezzi... Non mi ricordo sta cosa qua... Perché... Consideri che... E' un film strano... Eh... E' un po' un oggetto misterioso... E... Insomma... E' uno dei film più chiacchierati... Ma poi... Richard... Aveva... Mi pare che ha fatto... La musica lì... La musica... Mi ricordo neanche... La musica è un'apparizione pure come attore... Ha fatto... Diciamo... Un ruolo secondario... Sì... Però... Non è che era... Sì... Era una delle cose che... Però... Non è che era la cosa più importante... Per lui... Stato qua... Sì... E' stato un... Un bel incontro... Questo regista... Ma... Che era... Che era anche lui... Un personaggio... Eh... Controverso... Questo... Boscaro era... Era... Mi ricordo... Un personaggio... Abbastanza... Interessante... Ma controverso pure... Poi... Però era... Sempre verso... Il... Fine... Di quel periodo che... Che... Che lo frequentavo... Quindi poi non ho più... Approfondito... Approfondito... Inoltre sono andato pure a casa di Boscaro qua... A Padova... Eh... Mi ricordo... Che lui era anche... In ipotesi cardinali... Cioè... Era un... Era un nobile... Si si si... Era uno... Però non... Non è che era proprio... Una roba... Sulla carriera di... Di... Di Richard... Che poteva essere... Ma... A parte che... Ripeto... Erano gli ultimi... Periodi che io stavo... In contatto... Per cui... Però... Non credo che ho avuto... Tutto sto seguito... Ehm... E' stato un bel film... Sicuramente... Invece... Senta un'altra cosa... Eh... Non ricordo mai... Quello se l'ho visto... Beh... Un'altra cosa che dovrebbe... Cioè... Rispetto al periodo di cui mi ha parlato... Mi ha parlato lei... Dovrebbe essere... Cioè... La dovrebbe sapere... E' vero che Richard... Ha accompagnato... In concerto a Roma... Grace Jones... Sì... 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 Quella c'è stata... Quella roba... Era vera... Era vera... Ehm... Ehm... Perché poi lui si... Un po' si identificava... Con queste... La Grace Jones... Era molto simile a lui... A livello... Scenico... Eh... Ti ricordi... Cioè... Grace Jones... Poteva essere... Capito... Anche... Ehm... Comunque sì... Si è vero... Ha avuto... Contatti con lei... Ehm... Cioè... Questo concerto... Se lo ricorda... C'è stato... Lei... No... Ehm... Non ci sono stato... Non mi ricordo perché... Che anno è stato? Dovrebbe essere... Non lo sai tu che... 77... 78... Questi anni... Ehm... Ma non me lo ricordo... Mhm... Sai che certe cose... Non mi ricordo... Magari le ho vissute... Ma non... Si che ne so... È normale... È normale... Insomma... Capito... Ma le cose... Non è che sono... Neanche 80 anni... Ma... Abbiamo le stesse età... Si si... Di Richard... Era un più o meno... Un anno... Pagano un anno... Due... Ci passavamo... Differenza... Eh si... Io... Ma comunque... Non ho mai capito... Sto fatto di... Di sopportare... Ste cose... Pure dalla gente... Ma non lo so... Ma pure... Gianni... Mi ha detto che... Che poi lui... L'ha conosciuto bene... Perché... Essendo mio amico poi... L'ha conosciuto pure lui bene... Ecc... Ehm... Ehm... Ci facciamo... Ci diciamo... Ma come è possibile... Sia... Sia successa una roba del genere... Ma... Ma se fosse... Non lo so... Non lo so... Non lo so... Non lo so... Ti pareva proprio... Veramente impossibile... Cioè... Scherzi... E poi... Che manteneva... Una distanza... Anche dagli altri... Non indifferente... Cioè... Non è che... Non è che... Non è che... Così tanta... Convedenza a tutti... Cioè... Voglio dire... Una distanza... Una distanza... Anche proprio... Capito... Sia fisica... Che... Non dico che era... Razzista... O... Classista... Però... Lui era morto anche... Borghese... Nel sangue... Perché era... Ereditato da... Un po' dai genitori... Dalle cose... Questo... Distacco... Verso... Verso... Chiunque... Favano a buttargli il pollo... E poi era anche un tipo... Ma no... Guarda... Se uno mi diceva... Sai che adesso... Che lui un giorno sarà così... Dicevo... Ma guarda... Ma poi... Cioè... Non so... Non ci scommetto neanche... Un centesimo... Infatti... Infatti... Quando è uscito il video mio... In cui io... In realtà fatto in collaborazione con un'altra persona... In cui ho ricostruito la storia della famiglia... Tanti commenti sotto... Erano di persone incredule che dicevano... Ma uno come Richard Benson... Come è possibile... Che c'aveva sta famiglia... E invece... Lei mi racconta... Che poi... Eh... Un po' parecchio mi ricorda... Dato che lui... Ti ripeto... Questo... Questo... Provincia di Roma... Eh... Ma lui piaceva proprio essere un po' questo fatto del... Borgataro... Gli piaceva... Capite un po'... Questo discorso dell'autista... Anche un po' Borgataro... Forse per essere una ribellione... Cioè... Era pieno di contrasti... Di contraddizioni... Paceva... Paceva il discorso nobile... Sangue blu... Ma... Gli piaceva anche il discorso che... Era orgoglioso che la nonna parlava... Di parlare al romanaccio... A lui... Che era tutto... Capito... Con la mamma... Tutta... Cioè... La mamma sembrava una alla corsa d'Inghilterra... Ragazza... Tutta quanta... Eh... Veramente... Che faceva il tè alle cinque... Eh... Tutta sta roba così... Eh... Cioè... Cioè... Una famiglia così... Quella... Eh... Lui... Eh... Che era contento... Questo fatto di... Però... E sangue pure... Sta... Però... Non aveva mai pensato... A sfociare... Anche in cose del genere... Per carità... Cioè... Non... Diciamo che nel... Lui stimava molto Renato Zero... Stimava molto... Eh... Lui piaceva anche la bella musica... Anche di quella... Della musica leggera... Cioè... I musicisti bravi... Anche di musica leggera... Lui stimava moltissimo... Non è che pensava solo a... 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 A Van Allen... Ancora... 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 Custosite gelosamente... Tutte le musica sette... Che mi... Che mi registrava... Lui mi registrava sempre... Queste... Musica sette... Con pezzi incredibili... Che poi... Aveva la fortuna... Dato che era stimato moltissimo... All'interno del... parlo di vinili, tipo ai Parioli oppure in altri posti, aveva l'onore e l'onore di prendere i dischi che voleva, poi quelli che non gli piacevano, perché gli ha leppito di tagliarli per aprirli, non è come il cd, cioè toglieva proprio la plastica, l'involucro, l'involucro eccetera, quelli che non gli piacevano li riportava in negozio, quindi mi ricordo che erano questi avvenimenti pomeridiani, perché poi si fa tutto, quindi guarda che adesso esce l'ultimo di Todd Rundgren, l'ultimo di Utopia, oppure l'ultimo di questo e quell'altro, allora andiamo a prenderlo, facciamo dei pomeriggi di ascolto incredibili, poi quelli che lui riteneva che erano un po' così, li riportava e li riportava al negozio, e se li prendeva quel negozio se lo prendeva, perché prendeva, non ti dico quanto di dischi, prendeva centinaia di dischi che aveva, proprio se non di più, e poteva restituirli, pensa un po' che è un fortuna, che è un onore, quindi era così, poi era molto critico, infatti io sono cresciuto musicalmente pure io con lui, però ascoltavamo anche, non essendo a senso unico come i cavalli, con le paraocche eccetera, ascoltavamo anche molto ECM, sai le emissioni di musica contemporanea, tipo Ian Garbarek, che ne so, Pat Masini, noi ascoltavamo molto, molto quella musica lì, specie a Sacrofano quando avevamo sta stanza che aveva fatto il figlio di Antonietta, un po' sala di registrazione, un po' sala di audio, ascoltavamo molta musica ECM, ECM si musica per orecchie è intenditore, c'è anche Pat Masini in mezzo, c'è anche tutti questi qua, però ha una cultura a 360 gradi, anche un pezzo dei Poo che era bello, lo apprezzavo, gli piaceva, capito per dirti, ma non perchè, come professionista, non tanto come fan, come cosa. Invece dicevo il Richard Radiofonico, lui conduceva pure trasmissioni radio? Era brava, era brava, poi era brava, innanzitutto aveva parlata una voce molto bella, molto radiofonica, no? Che deve avere pure la voce radiofonica, insomma. In più conosceva l'inglese perfettamente, quindi tutte le presentazioni dei dischi, dei titoli, dei corpi, gli diceva perfetti, quindi anche per avere un piacere sentire. In più la storia della musica era un'enciclopedia del rock, c'era tutto, 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 aneddoti, questa roba qua, quindi, solo che pure, vedi, per esempio, avrebbe potuto fare trasmissioni in Rai, perchè doveva fare trasmissioni sulle radio private, vabbè che in quell'epoca erano un boom, queste radio private, magari pagavano anche di più, o le televisioni private, eccetera, però, pare che lui fece pure per voi giovani all'inizio. Sì, sì, sì. Partecipò con... però avrebbe potuto anche fare il DJ professional all'arai, perchè no? Con, che ne so, Cecchetto, come Cecchetto, come Carlo Massarini, come questi qua, avrebbe potuto fare. Aveva il timbro buono, conosceva tutto e di più, ti diceva proprio veramente... tante notizie che prendeva da... poi lui leggeva... cioè, non è che stava a cielo, leggeva il Melody Maker, leggeva... non c'era internet, quindi leggeva tutti i giornali americani, inglesi, capisci? Sì, e... C'era il mitico Ciao 2001 all'epoca... Su cui lui scriveva? Mi sono pentito, mannaggia, aveva una scatola piena e l'ho buttato via. In uno dei traslorti, quello era stato... stato un peccato, perchè era una rivista bellissima. Che uno se la vede adesso e dice, ma come è possibile? Che siamo diventati così deficienti oggi. Concordo. Cioè, se vedi un uomo di Ciao 2001, erano sfogli, era quello che leggevano quasi tutto, vedi? Cioè, parlava dei G.I.S., dei Genesis, dei Pink Floyd, dei Gentle Junk... Cioè, tutti questi gruppi che... Beh, oggi, cazzo, apre un giornale di musica, chi c'è? Meglio, uno si mette a piangere, se vede... Se apre un giornale di musica. Ah, vado, veramente? Eh, vabbè, ma all'epoca... Poi si vedevano dei concerti in giro... Pazzeschi. Ehm... Pazzeschi. Ma invece... Ehm... Lui dice... Dice di essere molto legato alla città di Milano. Avete mai fatto spettacoli a Milano? No. Ma con me no. Ok. Noi facevamo Centro-Sud. Centro-Sud. Eh no, anche... Anche Toscana abbiamo fatto. No. Dei posti in Toscana verso Siena. No. Ancora me ne ricordo. Con la macchina, Ronetta. Andavamo... Con le scenografie nel portabagaglie. Perché ci portavamo tutti. Cioè, diciamo, le luci io usavo quelle che trovavo là. Di solito erano anche club o discoteche, per cui le luci c'erano sempre. Però un occhio di bue ce lo portavamo sempre. Oppure delle cose sceniche tipo delle stelle... Cioè, delle cose che si mettevano dietro il pad... Dietro... Come fondo... Dei fondali... Ce li portavamo. A volte delle scritte che si illuminavano. Quello che potevi portare in macchina, a volte ce lo portavamo via. Poi lui si cambiava, chiaramente aveva sempre costumi, trucchi, costumi di tutti i tipi. Elaborativo. Però in alcuni chiaramente non veniva Marzia, eh. Era solo lui e basta. Cioè, Marzia veniva. Quando c'era Marzia non... Non c'era Etta, chiaramente. Non c'era Maria Antonietta, insomma. Certamente, dice. Ma non è che lo faceva di nascosto. Non è che lo faceva di nascosto. Erano proprio dei periodi che non c'era, insomma. Non c'erano tutte e due insieme. Ok. Ok. Allora, signor Leone, io sono abbastanza soddisfatto. La... Veramente la ringrazio per il tempo che mi ha concesso. Sì, no. Ma dovevo proprio per togliermi sto coso. Nel senso che... Molte cose vedi che non mi ricordo neanche più. Vabbè, però me ne ha dette tante, eh. Me ne ha dette tante, insomma. Sì. Diciamo che io conosciuto molto di più la... Lui come... Essere umano. Come amico, capito? Come cosa, ecco. Va bene. Va bene, va bene. La ringrazio ancora e... E niente. Buona domenica. Ci risentiamo. Ma è in contatto in ogni caso. Sì. Grazie, grazie mille. Ciao, sai. Buona giornata. Altrettanto. Ciao. Ciao. Eccoci di nuovo negli studi di Televita. È terminata l'intervista a Franco Leone. Spero sia stata di vostro gradimento. Secondo me Franco Leone ci ha restituito un'immagine di Richard Benson, un ritratto di Richard Benson a tratti inedito. È inutile che mi soffermi di nuovo sul discorso religioso. Sono anche intervenuto nel bel mezzo dell'intervista per sottolineare quel momento. Io sono stato veramente stupito nel constatare che Richard, almeno in una fase della sua vita, ha avuto, per così dire, un'infatuazione religiosa che poi sarebbe meglio riuscire a descrivere con maggiore dovizia di particolari. Dovremmo sentire qualcun altro. Cioè, in che termini Richard Benson rispettasse figure come quelle della Madonna è tutto da vedere e da considerare. Però è una notizia sicuramente importante. Ma Franco Leone ci ha confermato tra le righe anche altre cose. Per esempio, questo particolare atteggiamento di Richard Benson di distacco, quasi freddo, borghese, che, noi lo sappiamo, non può che essergli derivato dall'educazione che ha ricevuto. Allo stesso tempo, però, Franco Leone ci ha anche detto che Richard, questo lo sapevamo già, era molto legato alla nonna, la nonna materna, Marietta Toppi d'Antico Licorrado. E, in qualche modo, era orgoglioso, tra virgolette, di essere anche un borgataro. Quindi questa ambivalenza, questo contrasto che in Richard Benson è sempre presente, non è mai univoco, non è mai semplice da spiegare. Molto spesso nel suo carattere convivono elementi opposti, che poi vanno decifrati. E questo è anche uno degli aspetti affascinanti della vita e del carattere di Richard Benson. Chiaramente abbiamo avuto conferme per quel che riguarda le donne, ormai Marzia Sedoc, Maria Antonietta Capacci, ormai su queste non abbiamo più nessun dubbio. E quindi, credo che possiamo essere soddisfatti. Abbiamo avuto anche qualche informazione su Schizzona, anche se frammentaria. Prima di chiudere, vorrei un attimo ragguagliarvi su quello che sarà il futuro di questa serie, che giunge, credo, alla settima puntata con questo video. Anche se le ultime due sono due interviste nei fatti. Ci stiamo avvicinando ad un traguardo importante che è l'anno dalla prima puntata, che uscì proprio nel marzo del 2019, a seguito del ritrovamento del certificato di nascita di Richard e a seguito anche del ritrovamento di Renegade. Nel corso di quest'anno, qua di Uvato, anche a partire da un certo punto in poi, dalla quarta puntata in poi, da Lorenzo Tiribocchi, da Andrea Dabrescia, sono riuscito a scoprire molto su Richard. E però, arriva anche il momento in cui bisogna mettere un punto. Quindi, appena terminato questo video, e quindi quando voi lo vedrete, sarò già oltre, mi metterò a lavoro per quella che formalmente sarà l'ultima puntata. Questa immediata avvertenza, per chi si stesse già spaventando, non credo in molti, ma qualcuno, qualche appassionato di questa serie c'è. Non terminerò qui, chiaramente io l'argomento di Richard Benson lo tengo sempre presente, perché sono affezionato a questa figura, e anzi nell'ultima puntata vedrete che tenterò di indicarvi anche di razionalizzare le motivazioni per cui sono così legato a questa figura. Quindi, quando ci saranno nuove notizie, quando riuscirò a scoprire qualcosa di nuovo, certamente interverrò. Però, è chiaro che il ciclo biografico che è iniziato a marzo del 2019 deve anche conoscere una fine. E quindi, mi metterò a lavoro per un video che rappresenta una sorta di conclusione formale del ciclo biografico, nel quale parlerò dell'ultimo periodo di Richard Benson, quello che va dalla fine degli anni 90 a oggi, e nel quale, in particolar modo, mi soffermerò sull'impatto e sulle peculiarità dell'avventura televisiva di Richard Benson, quello che io ritengo essere uno dei suoi capolavori, e cioè il programma cocktail micidiale, un capolavoro del trash, un capolavoro dell'istrionismo contemporaneo, insomma, vedrete, vi parlerò di questa avventura televisiva, e cercherò di contestualizzarla nel modo migliore possibile. Per adesso io vi ringrazio, vi ringrazio per essere stati con me in questa premiere, per aver visto il video anche successivamente, vi ringrazio per i commenti sotto i vari video che fioccano in continuazione, anche a nome di coloro che mi hanno aiutato, e vi do appuntamento al prossimo video che sarà formalmente l'ultimo, non l'ultimo in assoluto, ma formalmente l'ultimo, che chiuderà questo ciclo, e nel frattempo chiaramente vi auguro buon proseguimento, buona vita e buon tutto. Ci rivediamo molto molto presto. Un saluto.